Buongiorno Roma, buongiorno a Latinoamérica. Si inaugura il campionato internazionale di futbol femenino, Trofeo Las Leonas. Per me il caccio... Come la droga, hai visto quelle persone che drogate, poverine, morì a scrivere la droga? Per me è che così. Signora Ernesta, io sto facendo un campionato del calciotto. Per Rebe lei se l'è invito. Da quanto tempo giochi a calcio? Da quando avevo 7-8 anni. Quando io facevo un'infortuni, mia mamma mi diceva devi smettere di giocare a calcio. Io lì rispondevo, mamma, io smetto di giocare a calcio quando diventerò vecchia. La migliore giocatrice, chi lo decide? È la commissione? Cioè voi due, non due. Siamo diventati amici. Cioè il calcio è stato, diciamo, l'inclusione. Mi hanno dato un insegnamento di accettare la vita, di non piangerti addosso. Passaranno, 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 con le nubi tutte le peni. Cantaranno, 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 le leone la vita buona.